Ciao a tutti da Stefano Direttore of Cameraman e G-Up Direttore del gruppo Siamo l'Anzio Tolinese direttamente all'erimo abbandonato dei frati carabellitani adesso Entriamo dentro, facciamo prima un super robo, poi iniziamo le taggine nel frattempo che Stefano fare un suo urbux e poi ci riuscire a ottenere Poi cosa facciamo il spedale? Questo era un ospedale? No, nella chiesa, l'erimo, dove c'è il sanatorio dati dai carabellitani ai frati carabellitani come ringraziamento della fine della peste Dietro c'è il sanatorio e dietro il corso c'è un ospedale a Pallovato di Gnaglia di Ottomio Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!